eccoci qua buonasera a tutti e buonasera a tutti gli amici di tv siti che ci stanno ascoltando questa è oltre la storia oggi siamo in diretta e venerdì 27 gennaio è la quinta stagione siamo alla quindicesima puntata stasera sono da solo salvatore ha avuto degli impegni lavorativi e noi faremo comunque una chiacchierata interessante parlando proprio attraverso un breve riassunto della nostra preistoria quindi partendo da da molto lontano proprio perché negli ultimi millenni noi sappiamo poco la nostra specie ha quasi 200 mila anni eppure tra i 75 mila e 6 mila anni c'è praticamente sconosciuto ecco stasera ci faremo spiegare una serie di cose dal nostro ospite che già abbiamo conosciuto che è carlos bisceglie perché proprio lui ha scritto un libro su questo che insomma adesso ce lo spiegherà quindi restate collegati non ci lasciate a dopo la sigla ciao ciao eccoci qua di nuovo ecco abbiamo Carlos ciao buonasera Carlos buonasera Edoardo buonasera a tutti gli amici di TV City sì allora faccio giusto una breve descrizione di chi è Carlos anche se noi l'abbiamo conosciuto in altre occasioni lui è nato nel 72 è vissuto in Italia è stato in Germania, in Thailandia è un ricercatore indipendente è un autore di una serie di collane di libri che toccano vari argomenti vari aspetti che vanno dal mondo prima del grande disgello fino alla costruzione delle grandi pilamide noi infatti lo abbiamo sentito più volte soprattutto parlando di Atlantide di Tutankhamon proprio delle piramide in generale e quindi stasera siccome lui ha scritto ultimamente un libro in autopubblicazione su Amazon che si chiama Homo Reloaded 75.000 anni di storia nascosta ce lo facciamo spiegare ben da lui che cos'è questo 75.000 anni di storia nascosta e quindi Carlos ti faccio subito la domanda proprio per capire qual è l'argomento del tema ma prima di darti la parola voglio ricordare chiaramente a tutti gli amici che stanno seguendo che questa è una diretta quindi potete fare liberamente le vostre domande potete iscrivervi al nostro canale potete mettere il mi piace e quindi Carlos ci siamo sei tutto tu parla tranquillamente del tuo libro e spiegaci di che cosa parla allora Homo Reloaded già questo tema deve farci vedere in mente il ricaricamento di una app di un cellulare o la ricarica di un programma di un computer perché? perché come hai detto tu giustamente noi esistiamo da circa 200.000 anni come specie eppure gli ultimi da 75.000 anni a 6.000 anni fa c'è una ombra di bugio sulla nostra storia non sappiamo esattamente quello che è accaduto sappiamo che da sprazzi di ritrovamenti che ci sono civiltà che appaiono poi scompaiono poi riappaiono poi riscompaiono in armonia con alcuni cambiamenti climatici drastici che sono stati sulla Terra e di cui adesso con le moderne tecnologie riusciamo a avere contezza parliamo quindi del disgelo parliamo dell'innalzamento dei mari parliamo dell'inaridimento del Sahara parliamo del bombardamento di cometi avendo circa 12.000 anni fa quindi noi abbiamo assistito per chi c'è stato nel passato a improvvisi drastici cambiamenti che hanno ovviamente impattato in maniera tremenda sugli esseri umani che vivevano quindi questo libro prende in esame buona parte di questi cambiamenti ma va oltre qualsiasi storia per quanto sia ben articolata non ha senso se non ha un buon inizio quindi un secondo aspetto molto profondo che tratta questo libro forse anche il più importante è cercare di capire come è iniziato tutto noi siamo abituati perché lo sentiamo in tv ce lo dicono a scuola e anche l'argomento di conversazione siamo abituati a pensare che tutto è iniziato con un big bang una enorme esplosione una singolarità cosmica incomprensibile perché sarebbe un oggetto di massa infinita e un oggetto di massa infinita non si può comprendere ma questo oggetto di massa infinita dovrebbe essere in un punto infinitamente piccolo quindi credere al big bang è un po' come credere a dio perché noi non riusciamo a spiegarlo questa teoria però ha tutta una serie di problematiche che man mano che il tempo passa capiamo che forse non può essere proprio data così facciamo un esempio come si è trasmessa la vita fino al 1700 più o meno c'era la teoria della generazione spontanea cosa pensava la gente che per esempio pioveva c'era un po' di fango che aveva la forma di un pesce col tempo quel fango diventava pesce cioè dalle cose inanimate veniva la vita dei ricercatori italiani da cui Spallanzani spiegò chiaramente che la vita viene solo da vita precedente e per tanti anni questo fu accettato ecco sono tornato quindi io affronto questa prima grande domanda come hai avuto origine nella vita ma soprattutto come si è trasmessa la vita noi sentiamo in tv che la vita è riparta sulla terra tramite i comete benissimo ma il nostro universo è grande circa 170 miliardi di anni luce vuol dire che una cometa pur si andasse la velocità della luce impossibile per andare dal centro dell'universo e trasmettere la vita sulla terra ci metterebbe miliardi di anni ma un battero non vive miliardi di anni un virus non vive miliardi di anni quindi se fosse questa l'unica possibilità di spostarsi la vita morirebbe sulle comete la vita non si potrebbe trasmettere noi vediamo quanto è difficile trasmettere la vita quando soltanto per andare su Marte ci vuole una incredibile organizzazione tecnologica perché non riusciamo ad andare su Marte con esseri vivi con sonde non c'è problema computer macchine siamo andati anche oltre il sistema solare ma con esseri viventi è difficilissimo quindi la prima parte del libro affronta questa domanda come ha avuto virgine la vita e soprattutto come si è trasmessa la vita perché davvero qui la domanda da recente pistole come si trasmette la vita e poi dopo che la vita è atterrata sulla terra come ha prodotto l'homo sapiens circa 200.000 anni fa e quante volte l'homo sapiens è riuscito a civilizzarsi e purtroppo quante volte è stato reloaded ricaricato cioè è dovuto ricominciare da capo noi siamo all'ultima versione speriamo di durare più a lungo questa è un po' la sintesi del libro benissimo quindi hai affrontato proprio dalle origini dell'umanità proprio da quando siamo partiti come esseri umani anzi ancora prima fino ad arrivare in tempi recenti fino a che età ti sei spinto col libro in tempi recenti Tutankamon Gesù Cristo 2000 anni fa quindi quindi anno zero quindi anno zero della nostra era ok perfetto noi chiaramente conosciamo quella che la storia ufficiale ci ha insegnato che c'è stato nel nostro pianeta una serie di specie di esseri umani che si sono conosciuti soprattutto tra il sapiens il neandertal il denevo il zovan eccetera hai affrontato questi temi all'interno del tuo libro? sì io faccio una divisione molto netta tra esseri simili agli umani ma in realtà scimmieschi astrolopiteico per esempio o altri tipi di esseri che abbiamo considerato di nostri antenati ma in realtà sono molto più simili alle scimmie e perché io dico che sono simili alle scimmie non solo per un fatto fisico ma perché soltanto gli esseri umani sono in grado di produrre per esempio arte allora per me se un essere anche se assomiglia ad un essere umano se non produce arte non è umano o solo gli umani riescono a usare gli utensili per servirsene noi usiamo il bastone un martello la freccia questo è un atteggiamento tipicamente umano quindi anche se altri esseri assomigliano agli umani ma non riescono a fare questo per me non sono umani sono parenti stretti ma non sono umani lì invece se parliamo di specie famiglie umane io dico in questo libro in effetti noi abbiamo avuto prima di noi alcune famiglie umane che purtroppo si sono estinte la prima è stata quella di Neandertal un tempo si pensava che Neandertal fossero quasi scimmie ma man mano che le ricerche vanno avanti e scopriamo nuovi attrezzi creati da parte loro capiamo che in realtà Neandertal è un tutto per tutto semile a noi in pratica qual è la differenza i sapiens noi siamo gli africani noi siamo nati in Africa e quindi un tempo eravamo bianchi eravamo neri noi siamo originalmente di pelle nera siamo poi diventati albini e quindi ci siamo sbiaditi però in realtà i geni che noi abbiamo sono della zona africana a nord invece in Europa c'erano quelli con gli occhi chiari capelli rossicci pelle bianca questi erano Neandertal i sapiens come noi erano più snelli perché in Africa faceva più caldo quindi noi sappiamo anche per esperienza chi è snello sopporta meglio il caldo invece i Neandertal in Europa erano molto robusti molto grasso perché faceva freddo in quel tempo in quel tempo in nord Europa si abbiamo problemi si siamo ritori persone robuste con la pigmentazione molto chiara sopravvivevano meglio e quindi quello era il loro regno poi c'era una terza specie scoperta poco di recente i Denisova in realtà non abbiamo scheletri di Denisova abbiamo solo DNA praticamente cosa è successo in una caverna la caverna appunto di Denisova hanno trovato del materiale biologico grazie alle tecniche moderni l'hanno analizzato e hanno visto che non sono esseri non sono sapiens sono esseri umani come noi ma non sono sapiens questi Denisova quindi era la razza umana che si era sviluppata nel sud est asiatico questi vivevano in quello che oggi era Australia ma un tempo c'era un altro subcontinente chiamato Sundaland vivevano nel sud della Cina ed erano probabilmente abbastanza olivastri di carnagione capelli neri una via di mezzo tra i Neandertal e noi che siamo i sapiens questi Denisova però avevano un vantaggio enorme noi sappiamo che fino a 14.000 16.000 anni fa più o meno i ghiacciai coprivano la terra li coprivano al nord in parte anche Sudafrica la zona del sud però la fascia dell'equatore era una fascia calda quindi in mezzo agli ghiacciai una fascia calda vuol dire che c'erano alberi c'era acqua c'erano animali e i Denisova vivivano proprio nella fascia tropicale diciamo della terra quindi mentre i Neandertal al nord dovevano faticare parecchio per procurarsi il cibo mentre anche i sapiens avevano i stessi problemi i Denisova vivevano in quello che sembrava essere un paradiso terrestre tanta acqua tanto cibo tanto tempo anche per perché se tu hai cibo non lo devi cacciare non devi ammazzarti per procurarti il cibo quindi i Denisova avevano più tempo e sembra che si siano sviluppati molto prima di noi ovviamente non parliamo di iscrivolanti però sappiamo e questo è un fatto piuttosto certo che i Denisova già oltre 10.000 anni fa riuscivano a viaggiare nell'oceano forse avevano dei catamarani o altri tipi di imbarcazioni riuscivano a fare viaggi oceanici sappiamo questo perché per esempio uno dei tanti indizi abbiamo scoperto oggi che la palma da cocco non può viaggiare in maniera autonoma nel mondo deve essere portata come essere umano ora tutte le palme da cocco sono nate proprio dove stavano i Denisova in India Thailandia quella zona lì ma noi abbiamo le palme da cocco a Cuba in Centro America chi ce le ha portate? qua che Denisova si è fatto un bel viaggetto oppure abbiamo alcuni a Gobekitepe nelle stelle alcune rappresentazioni di animali che vivono solo nel sud-est asiatico chi li ha portati lì? anche hanno fatto degli studi di alcune popolazioni del Centro America del Messico scusate hanno del DNA che in parte proviene dai Denisova qui abbiamo più che abbondanti prove che questi nostri cugini o fratelli bisogna vedere come lo vogliamo considerare erano dei abilissimi navigatori ma tantissimi anni fa quindi se uno se facciamo un paragone noi abbiamo raggiunto gli europei l'America nel 1492 circa quindi la tecnologia del medioevo ci è voluta per raggiungere l'America e beh Denisova lo facevano 5.000 anni prima di noi o forse anche prima quindi evidentemente avevano raggiunto una civiltà nettamente più sviluppata anche la città di Nalmadol una città in pietra nel bel mezzo dell'oceano inspiegabile perché è antichissima è un altro segno che i Denisova probabilmente erano molto più sviluppati però queste due nostre famiglie umane si estinsero prima i Neandertal 30.000 anni fa più o meno e non si sa perché la cosa strana è che Neandertal e Homo sapiens si vivevano assieme e Neandertal morirono e Homo sapiens no perché e dopo molto tempo circa 11.000 anni fa anche i Denisova ci lasciarono probabilmente i Denisova furono spazzati via dal rialzamento delle acque che anche se non fu improvviso c'è voluto qua per secolo un po' alla volta ha cancellato il loro territorio quando cancelli il tuo territorio sei obbligato a migrare alle volte non ce la fai perché il cambiamento climatico è troppo forte e forse loro non ce l'hanno fatta e sono spariti alcuni di noi alcuni esseri umani specialmente quelli che abitano in Indonesia hanno il DNA quasi il 10% di DNA di Neandertal testimoniare che sono esistiti e abbiamo avuto contatti con loro anche molto stretti ho capito è interessante questa cosa hai fatto anche chiaramente un breve passaggio prima di quando finisce un'era e inizia un'altra poi me lo affrontiamo dopo questo tema perché stanno arrivando alcune domande che volevo chiaramente farti ci scrive Giancarlo Bocchicchio lui ci parla dei Dori apparsi nel Peloponnese che oscura la città Micenea per oltre 4 o 6 chi erano in realtà non è proprio l'argomento della serata però possiamo affrontare questa risposta in questo senso noi pensavamo che grazie Giancarlo i Micenei erano diciamo fino a 3-4 mila anni avanti Cristo si sono esistiti in realtà le ultimissime scoperte parlo proprio di recenti scoperte qualche anno fa che sono presenti nel libro ci dico che bisogna andare indietro di almeno i 10 mila anni perché lo diciamo hanno scoperto scienziati greci che in Grecia e quindi nella zona del Peloponnese commerciavano in Ossidania nel 15 mila avanti Cristo cioè 10 mila anni prima di quanto si pensasse quando ancora il mare era molto più basso di quanto è adesso l'hanno scoperto perché hanno analizzato i resti di Ossidania che si trovano in una certa isola non sono originari di quel posto sono stati portati da un'altra isola quindi evidentemente c'era un commercio di Ossidania e non di materiale grezzo di utensili quindi c'era già una civiltà che in Grecia 15 mila avanti Cristo riusciva non solo a cavare l'Ossidania a lavorarla e a trasportarla ora uno dice dove stanno le città e qui c'entra il disgelo la stragrande maggioranza delle città quando inizia la civiltà se si trova vicino al mare queste città stanno sulla costa noi siamo italiani sappiamo che la maggioranza delle nostre città grandi si trovano sulla costa o vicino alla costa Napoli Roma dall'altra parte Foggia è pieno di città lungo la costa immaginate cosa accadrebbe se il mare si alzasse di 120 metri tra 100 anni nessuno penserebbe che si sia assistita Napoli Roma o altre città costiere la stessa cosa è accaduta in Grecia perché come si vede in questa cartina l'inalzamento del mare si è mangiato la costa e quindi tutte queste città che già 15.000 anni fa producevano materiale commerciavano ora stanno sotto il mare ma nessuno pensi che stanno sotto il mare conservate che uno va sott'acqua e vede la città perché i detriti ci sono almeno 20 metri di detriti da scavare quindi noi ecco perché non si vedono queste costruzioni non sono solo sott'acqua ma sono sotto il fango sappiamo che ci sono perché se c'erano esseri umani e sappiamo che c'erano esseri umani questi si trovavano necessariamente vicini all'acqua quando si è alzato il mare purtroppo non dico loro ma almeno loro città sono rimasti lì non solo le potevamo portare dietro e quindi abbiamo gran parte della nostra cultura sott'acqua sì anche abbiamo affrontato questo tema con altri autori proprio parlando sia del Sundaland ma anche del nord dell'Europa e effettivamente c'è poi questa cosa che le popolazioni che vivevano vicino le città ai mari venivano completamente sommersi passo ad un'altra domanda di Nemesi ciao Nemesi io ricordo che avevano scoperto tre tipi di DNA tre tipi allora in realtà se fossero DNA diversi noi non potremmo essere parenti ad esempio un cavallo non può copiarsi con un elefante quindi DNA diversi non riescono a mischiarsi diciamo tre varianti questo sì perché noi abbiamo una variante noi siamo sapiens abbiamo un DNA i Neandertal abbiamo lo stesso DNA ma con delle varianti e anche i Denisova avevano una variante di DNA e sui Denisova possiamo spendere un'altra scusate non c'è un po' di tosse possiamo spendere un'altra parola Erodoto parlando degli Atlantidei gli abitanti di Atlantidi molti pensano che il primo a parlare di Atlantidi fu Platone grosso errore il primo a parlare di Atlantidi fu Erodoto che viveva 50 anni prima di Platone nel suo libro dice che c'era questa strana popolazione che oggi sappiamo ecco oggi sappiamo l'esame del DNA che queste popolazioni probabilmente potevano venire da Sundaland quindi erano gli Denisova questa gente dice a Erodoto non dormiva non sognava anzi scusate dormiva ma non sognava non sognava e non si nutriva di carne ora che Erodoto dicesse che c'era esseri umani che non sognavano è singolare perché tutti gli esseri umani sognano tutti anzi tutti i sapiens sognano può darsi che noi non ci ricordiamo il sogno però dalle analisi cerebrali si dimostra che tutti quanti noi sogniamo se c'era la popolazione che non sognava non erano sapiens quindi forse c'era una modifica al DNA che loro non avevano bisogno di sognare e quindi è la prima diciamo così accenno storico di una variazione di DNA ovviamente Erodoto non poteva saperlo però noi oggi con queste nuove informazioni capiamo che forse qualcuno nel Mediterraneo aveva un DNA diverso e quindi il cervello funziona forse in maniera leggermente diversa sempre esseri umani per carità ma con alcune diversità Sì ci dice l'amico il nuovo spirito del tempo Venisova fratello del Neandertal e cugino dei Sapiens sono stati trovati i primi resti in Altai Siberia geneticamente superiore scomparso intorno a 40.000 anni fa dopo ci sono gli ibridi incroci E superiore bisognerebbe averne uno per poter lo paragonare quindi sappiamo diverso poi superiori questo poi è un azzardo diciamo così ecco che possiamo io li ho studiato anche e tra poco uscirà anche il libro sui giganti sempre nella zona della Cina e quindi tutta quella parte dell'Oriente un po' più estremo c'era anche un'altra specie che si chiamava Omolongi che era mediamente alta 2,30 2,40 e poi questo sarà lo spunto insomma del tema che farò era solo una parentesi perché insomma in quella zona c'era tanto fermento insomma vado avanti con le domande c'è l'amico sempre Astro The Channel se siamo andati in America nel famoso 1400 come si spiega che ci sono dei dipinti italiani antecedenti a quella data con piante amazzoniche non era una pianta era l'ananas dipinti italiani sì ah quindi l'amico vuol dire che forse noi abbiamo già prodotti visitati visitato quei posti perché in effetti c'è un un disegno dove viene rappresentato l'ananas che è un prodotto tipico dell'America centrale dice com'è possibile sì ma infatti Platone sembra parlare nel suo libro di noci di cocco che non dovevano conoscere i greci oppure in Egitto sono presenti in alcune tombe delle resti di sostanze che fino alla commercializzazione degli stupefacenti diciamo così sono presenti solo in Colombia sono già presenti in alcune mummie quindi come è possibile questo sia accaduto evidentemente in qualche modo è possibile anzi forse diciamo possibile è probabile che la costa africana ha avuto dei contatti con la costa americana prima pensavamo che fosse impossibile ma dalla scoperta che viaggiavano in tutti gli oceani se c'erano riusciti loro forse qualcuno altro c'è riuscito quindi loro erano capaci di fare questi viaggi ti voglio far vedere questa foto che mi hai inviato perché proprio sulle coste africane che stiamo parlando tu mi hai inserito quest'occhio del Sahara ecco cosa c'entra con il tuo libro se è attinente ad Atlantide o comunque a qualcosa del genere sì diciamo che Atlantide è figlia del cambiamento climatico ed è stata uccisa da un altro cambiamento climatico perché l'immagine che vediamo adesso oggi l'Africa non è così non c'è quel fiume e anche la costa è diversa perché perché noi viviamo in un periodo di tempo in cui il Nord Africa è arido noi siamo per tanti anni abbiamo sempre pensato che il Nord Africa è stato sempre un deserto e invece no oggi sappiamo che esiste proprio un ciclo che di meteorologico che cambia circa ogni 15.000 anni il Nord Africa passa da un clima arido a un clima umido pluviale quindi quando Platone parla del Sahara 11.000 anni fa in quel periodo il Sahara non era come si vede in questa foto ma era molto più simile all'Amazonia o qualcosa del genere pieno di laghi c'erano almeno quattro laghi grandi quanto la Svizzera un fiume gigantesco evidentemente ci sono dei problemi di comunicazioni con Carlos sì 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 ci sono ok allora ecco qua riprendo quello che ho detto dicevo che circa al tempo che secondo Platone c'era Atlantide il Nord Africa era verde pieno di laghi almeno un grandissimo fiume questa conversazione questa conformazione idrografica rintagliava al nord della del Nord Africa una specie di quasi isola perché diciamo quasi perché per un pezzetto era ancora attaccata alla terraferma in pratica le montagne del monte Atlante era l'unico pezzo che teniva attaccato questa gigantesca isola al resto dell'Africa quindi quando Platone dice che in Nord Africa c'era un'isola vicino al centro di Civilterra colonia d'Ercole che c'era una civiltà ha detto una cosa vera ovviamente non tutto quello che ha detto Platone corrisponde a verità ma che là ci fosse un'isola e che fosse abitata questo oggi sappiamo che così perché ricostruendo ecco si vede in queste immagini ricostruendo com'era il Sahara undici milioni fa c'era veramente un'isola gigantesca cos'è l'occhio del Sahara? L'occhio del Sahara in realtà non si sa come si sia formato c'è chi dice che sia un vulcano che non è riuscito a diventare tale cioè si è gonfiato la terra come una bolla e poi è crollato sicuramente non è un impatto meteorico l'hanno studiato non è possibile ed è strano che ha questa conformazione quasi simmetrica sembra quasi fatto con un tornio Platone parla proprio di questa stranissima conformazione non dice che è stata fatta da esseri umani lui parla di un dio un dio che ha preparato la terra come fosse con un tornio e l'esame della descrizione che fa Platone è identica a quella dell'occhio del Sahara bisogna aggiungere un fatto oggi l'occhio del Sahara è arido sono delle colinette concentriche larghe circa 40 km in Nord Africa in realtà al tempo di Platone questo occhio del Sahara proprio perché era un timo molto umido era una grandissima piscina dove le creste affioravano quindi si creava una situazione esattamente come dice Platone c'era una piccola isoletta al centro con cerchi di mare e cerchi di terra un'ultima incredibile circostanza l'occhio del Sahara è visibile solo dallo spazio come facesse Platone a conoscerlo questo davvero è un grande interrogativo che affascina chiaramente tanti ricercatori e tanti studiosi perché insomma è un qualcosa che ancora non si riesce a spiegare abbiamo ancora qualche altra domanda te la posso proporre abbiamo qui ci sono tante prove di presenze europee in America questo scusami già l'abbiamo detta ecco qua il Sahara passa da deserto a foresta periodicamente ho sentito dire tempo fa da un documentale ecco quindi si dà ragione di quello che qui abbiamo l'amico Marco P che ci sono tante prove di presenze europee in America prima di Colombo ed anche di cinesi e giapponesi sulla costa Pacifica quindi erano un popolo di navigatori questi sì ma non erano cinesi erano gli antichi progenitori dei cinesi erano davvero dei grandissimi navigatori ok e quindi quello che ho capito bene è che c'è stato periodicamente un'evoluzione poi c'è stato un evento cataclismatico se lo vogliamo chiamare così che è un po' quello che abbiamo ripetuto anche in altre occasioni che quasi ha zerato la civiltà per farla ecco qua reloaded ripartire sì posso fare qualche esempio pratico per esempio vai allora andiamo su ciò che è certo cerchiamo di vedere cose certe ad esempio Gobekitepe è una certezza almeno 11.500 anni risultato del voglio 14 forse anche molto più antico perché in realtà noi non misuriamo le rocce noi misuriamo i reperti organici vicino alle rocce ma può darsi che sia stata sagomata anche molto tempo prima comunque diciamo 11.500 anni fa su alcune stelle di Gobekitepe c'è riportato e inciso il ricordo del bombardamento delle comete noi sappiamo oggi la scienza lo sa che il gruppo delle tauridi comete tauridi sono probabilmente si è disintegrato forse un pianeta o una comete non si sa c'è un anello di comete di detriti nello spazio e periodicamente la terra lo incrocia ora queste tauridi un grosso blocco ecco di un grosso blocco una grande bolide probabilmente ha incrociato la terra circa nel 10.500 a.C. più o meno oggi sappiamo che quando una grande cometa si avvicina al sole si disintegra per la cosa del carlo del sole e fa proprio un bombardamento la terra fu bombardata abbiamo anche scoperto alcuni crateri uno vicino alla Siria uno a nord vicino alla Grellandia in altre zone che effetto ha avuto questo bombardamento su Goblekitepe i ricercatori hanno scavato parecchio hanno visto che le costruzioni più antiche erano più grandi di fiattura migliore e da un punto di vista tecnologico più avanzato Goblekitepe poi fu coperta nascosta fu ricostruita la cosa strana è che la seconda costruzione era più piccola più rosa con meno incisioni fu ricoperta la terza costruzione è ancora più piccola quindi non notiamo una evoluzione perché normalmente se io divento se io mi evolvo sono una civiltà che impara nuovi tipi di costruzioni nuovi tipi di arnesi man mano che il tempo passa io faccio meglio quindi noi ci aspetteremo normalmente una Goblekitepe più grande più mestosa più tecnologica invece no regredisce quindi questo evento naturale ha avuto un effetto di involuzione e questo è provato cioè i stessi ricercatori i stessi archeologi devono ammettere che Goblekitepe non si evolve si fa involuzione lo stesso fenomeno lo troviamo per esempio a Giza le piramidi più antiche noi oggi sappiamo di per certo parlo sempre di studi accademici provati dimostrabili la più antica piramide è quella che noi chiamiamo la piramide di Micerino perché hanno visto che una roccia di marmo della piramide di Micerino è del circa del 4500 avanti Cristo non è stato fatto con il radiocarbonio perché il radiocarbonio non riesce ad adattare le rocce questo esame è stato fatto con la luminescenza stimolata artificialmente praticamente loro conto gli elettroni che stanno sotto le rocce è certo che questa roccia quindi è la più antica della piana di Giza in base alle conoscenze che noi abbiamo ora questo ci fa capire che le antiche le grandi piramide di Giza sono probabilmente le più antiche le prime e se noi vediamo come sono fatte sono incredibili la grande piramide è allineata al polo nord con uno scarto di 0,3 gradi ha una pendenza perfetta in tutte e quattro le facce cioè vuol dire che noi riusciamo a fare una cosa incredibile se noi prendiamo un'asta e la facciamo andare dalla terra fino alla appunto la piramide la pendenza non devia di anche un grado come hanno fatto non si sa perché neanche noi riusciremo a fare una cosa del genere a meno che se non usciamo se non usiamo laser o fili di ferro o fili di acciaio oppure la base della piramide ha avuto uno sbottamento almeno 5.000 anni solo di 10 cm sono cose che per noi neanche noi riusciremo a farlo queste però sono le prime piramidi ma non sono solo le uniche piramidi poi gli egizi continuano a costruire dove sono le altre piramidi sono crollate erano perché quelle successive erano di qualità inferiore erano mattoni cotti al sole quasi fango oppure modellavano le colline imprecise talmente scadenti che oggi esistono solo cumuli ma noi vediamo che le prime piramidi sono veramente riescono a rivaleggiare con i nostri grattacieli ma dopo non c'è un'evoluzione c'è una involuzione ancora una volta cosa può essere successo probabilmente nel nord dell'Africa si parla del cambiamento climatico della desertificazione da essere un verde il nord divenne deserto molti dovessero lasciare le loro abitazioni per andare dove c'era l'acqua e quindi questo ha creato un enorme sconvolgimento demografico che ha messo in ginocchio il nord dell'Africa Egitto compreso quindi poi vediamo che da lì c'è la devoluzione ma c'è una involuzione e così anche in sud est asiatico noi abbiamo l'incredibile città di Narmadol che dovrebbe avere 14.000 anni perché dovrebbe essere così antica perché è coperta dal mare il mare si è alzato 14.000 anni fa quindi o gli uomini sono capi di costruire città sott'acqua ma non è possibile o quella città è così antica che esatto come si vede la foto è stata costruita prima che il mare si alzasse anche in questo caso abbiamo questa Venezia nel deserto Venezia nel Pacifico di 14.000 anni fa ma già 10.000 anni dopo già qualche migliaia di anni dopo cosa abbiamo in quella zona le palafitte le capanne altre città così non abbiamo più per migliaia di anni quindi cosa è successo che ha distrutto non solo la la zona geografica ma anche la conoscenza anche in quel caso vediamo che abbiamo raggiunto un certo livello di civiltà capaci di costruire una Venezia già 14 anni fa e poi c'è stata la involuzione siamo tornati alle capanne queste non sono speculazioni queste sono problemi archeologici va bene allora ti faccio una domanda da Gaetano Suffritti buonasera i dolicocefali che sarebbe quelli col canio allungato dove si inseriscono nella catenomana grazie allora noi per catenomana intendiamo specie che hanno popolato ampie zone della terra il fenomeno dei crani allungati o dei cacefali sono in realtà molto puntiti cioè avvengono solo in specifici punti della terra per esempio in centro America o sembra in alcune zone in Egitto c'è qualche dodicocefalo quindi non possiamo parlare di una una branca evolutiva è un fenomeno locale quindi qualcosa è accaduto soltanto in un punto o due ok Martina Coppola sono stati ciao Martina sono stati mai effettuati degli scavi in profondità in qualche punto del deserto del Sahara per cercare resti di vegetazione o corsi d'acqua no purtroppo no per due motivi prima perché anzi almeno tre primo perché è una zona molto calda ci si spara parecchio da quelle parti quindi già è difficile secondo qualcosa che richiede molti soldi e terzo un po' tutti gli stati che hanno una grande alle spalle una grande periodo di cultura di evoluzione sono resti a riscrivere la loro storia se glielo chiedi non vogliono è anche comprensibile da parte loro abbiamo ancora una domanda da Domenico Rucci in questo reset dell'umanità c'è l'intervento degli Elohim penso è una bella domanda è una bella domanda allora anche qui andiamo in maniera razionale quello che si sa quello che si sa è che già circa 40.000 anni fa nel sudest asiatico insieme a dipinti di esseri umani ci sono dipinti di esseri umani con le testi di animali gli licesti ricercatori hanno dovuto ammettere che non si tratta di cacciatori travestiti di animali perché non avevano avuto senso nella economia della caccia di questo dipinto ci sono quindi due opzioni o che questi esseri umani con le testi di animali fossero delle divinità o era considerati da loro delle divinità o era un tentativo di descrivere degli esseri in parte umani scusate in parte diversi in entrambi i casi questo voldebbe dire che già circa 40.000 anni fa noi avevamo gli esseri umani avevano la consapevolezza di qualcosa di non umano ma questo in ogni modo distrugge le nostre consapevolezze perché fino adesso sapevamo che la religione che la religione in realtà può essere vista sia come la credenza in un dio che a tempo non c'era differenza però non è nata in dei sumeri 6.000 anni fa ma è qualcosa che ha sempre accompagnato l'uomo perché già 40.000 anni fa già c'erano quindi evidentemente noi esseri umani sappiamo che ci siamo accompagnati o con un'idea o con una realtà non umana da sempre perché abbiamo avuto questa consapevolezza questa è una domanda molto impegnativa molte leggende che parlano di queste estinzioni da Diurinoè per esempio oppure da Aura Mas da i Zaratrussi i Zaratrussiani o per quanto riguarda le religioni del Centro America per salvare gli umani dai cambiamenti climatici c'è sempre un essere non umano sempre è una costante indipendentemente dalla latitudine dalla razza dalla pelle c'è sempre questa questa presenza dato che noi oggi viviamo in un cambiamento climatico in corso basta vedere quello che è successo la stessa scorsa non è un caso che il Pentagono la NASA da negare l'esistenza di esseri alieni ora ne parlano voglio convincerci che esistono certo certo e vedremo dove andiamo a finire perché insomma parlare di questi argomenti dieci anni fa tanto per capirci era veramente difficile abbiamo un'altra domanda dell'amica mate d'imperio quindi l'occhio del Sahara potrebbe essere Atlantide se sì come si può combaciarla visto che nei scritti si dice che sia sprofondata e questa è una bella domanda allora ovviamente noi non siamo alla testa di Platone quindi non possiamo sapere lui esattamente cosa abbia pensato però c'è un indizio l'unico continente che sulla Terra è sprofondato è quello che noi oggi conosciamo col termine Sundaland e si trova diciamo dove oggi è l'Indonesia questo non è un azzardo questo è un fatto scientifico si può anche vedere sott'acqua c'è un sopra l'Australia un mini continente che è andato sott'acqua circa 11.000 14.000 anni fa e il periodo è lo stesso di quello che è venzionato da Platone ora uno dice ma che c'entra Sundaland con Platone c'entra perché secondo alcuni scritti trovati nei popoli centroamericani gli antichi chiamavano quel continente Mu ora inutile stare a dire esattamente quanto era grande Mu dove si trovava però sapevo che lì nel Pacifico c'era un continente si chiamava Mu la domanda è Atlantide con quale nome era conosciuto dagli egiziani perché Atlantide è un nome greco è impossibile che gli egiziani chiamassero quel posto Coloma Atlantide oggi sappiamo che gli egiziani chiamavano quella zona con il nome la terra dei Mashfesh perché i Mashfesh sarebbero la popolazione che ha abitato quella zona fino ai nostri giorni fino a qualche milione di anni fa i nostri giorni scusate oppure si chiamava la terra di Ma ora voi capite bene che è tra terra di Ma e terra di Mu è un attimo a confondersi quindi probabilmente Platone parlando della terra di Ma quindi dell'occhio del Sahara ha fatto accomunato il destino della terra di Mu che invece davvero spaventata sott'acqua a causa del disgelo quindi è come se lui avesse unito due storie in una e quindi Atlantide da farla prosciugare dal fenomeno climatico l'ha fatta sprofondare come è accaduto realmente a Sondaland questo è un fatto scientifico questa non è una nostra opinione è davvero sprofondato cioè sprofondato il mare si è inalzato e non c'è sì sì è un po' è cresciuto in tutto il mondo praticamente sì quindi ha sommerso come abbiamo detto queste tutto ciò che si trova nella costa qualcuno ha scritto anche giustamente lo ha fatto nell'India tutta la costa praticamente è stata settellita anche una parte dell'Australia anche in Nuova Zelanda ci sono proprio dei resti particolari immaginiamoci quanta roba c'è sott'acqua quanta roba c'è sott'acqua quanti umani quanti insediamenti sono sott'acqua sì che poi abbiamo visto anche che quando c'è stato quello che viene chiamato il grande diluvio universale a seguito venivano sette saggi a portare la conoscenza perduta e quindi c'è stato ecco come hai detto tu il ritorno facendo il reload grazie a queste sette figure che un po' si riportano in tutto il mondo d'antico tu l'hai retrattato questo argomento dei sette saggi dei satarici sì io parlo di Viracocha il Viracocha io vengo da lì quindi qualcosa per tradizione conosciuto Viracocha è la divinità che secondo l'Inca si maia con vari nomi ha portato la civiltà in Centroamerica ora al di là di quello che può essere una leggenda c'è un fatto straordinario gli Incas i maia tutte le popolazioni di quel tempo descrivono i Viracocha come un essere un essere umano di pelle bianca dove è l'ha fatto straordinario e che fino alla venuta di Colombo nel 1492 non c'erano stati che si sappia in Centroamerica uomini di pelle bianca non sappiamo proprio della loro esistenza primo aspetto secondo aspetto i Viracocha questo termine indica tre cose e indica un Dio il Dio buono che aiuta i popoli indica un grande messaggero di Dio e indica un popolo quindi sembra la loro leggende che prima ancora che le attuali popolazioni mesoamericane vivessero in quella zona venne un popolo che è molto pacifico quasi degli esploratori possiamo dire che vogliono trasmettere dalla conoscenza è vero o non è vero c'è un fatto che alcune rocce della alcune antiche strutture in Centroamerica sono geopolimeri cosa vuol dire non sono state non sono rocce trasportate a spalla a 3.000 metri di altezza perché era impossibile farlo cosa hanno fatto hanno quella gente era capace grazie a conoscenze chimiche che anche noi abbiamo oggi ma noi viviamo nel 2023 un po' di differenza grazie a conoscenze della chimica loro portavano solo dei materiali come fosse il cemento sulla montagna riuscivano a impastarli e riuscivano a creare quella che a noi sembra roccia vera noi sappiamo che non è roccia solo perché abbiamo degli strumenti talmente avanzati oggi che vediamo scusate che in queste rocce sono presenti i gocciolini di aria e queste goccioline di aria ci dicono che la roccia non si è raffreddata naturalmente ma si è raffreddata di colpo e quindi è artificiale ma se non fosse per queste goccioline d'aria non sapremmo che fossero artificiali quindi evidentemente queste persone avevano una conoscenza piuttosto elevata della chimica e questo è anche un fatto non lo sto dicendo io sono ricerche di diverse università americane che l'hanno scoperto quindi che ci fossero dei viracoccia voglio dire un popolo più avanzato prima degli incas e maia questo è un fatto da dove venissero è ancora da vedere però c'erano c'è un amico Sebastiano Tadde che ripercorrente proprio quello che stai raccontando dice su goblechitepe potrebbe essere di calcio e struzzo petrificato anche quelli di goblechitepe che io sappia sono state fatte ricerche in tal senso è una roccia porosa infatti anche se molto pesante è lavorabile anche con altezze di selce hanno fatto anche delle prove quindi in quel caso non sembra che sia necessario però ripeto un vero test non è stato fatto vale la stessa regola anche per i megapietroni che per esempio troviamo in alcune zone del Libano ci sono massi di centinaia e centinaia di tonnellate ma quella invece è roccia vera quella è incredibile cioè molti dicono ma i romani l'hanno fatto i romani non erano dici anni fa i romani erano duemila anni fa poi i romani erano un impero i romani potevano avevano accesso io intendo un balbec stiamo parlando di balbec quindi loro alcune volte hanno trasportato per esempio alcuni obelischi pesantissimi ma era un lavoro eccezionale che un imperatore può chiedere al suo popolo uno, due, tre volte invece a balbec uscivano in serie cioè se io posso capire che un impero romano può mobilitare una forza di lavoro talmente grande da fare una volta nella vita di un imperatore il grande gesto portiamo un masso enorme da balbec uscivano in serie quindi le cose sono molto diverse come facessero a cavare qualcosa di 1400 tonnellate trasportarlo non so oggi come faremo sì senti nel libro che hai scritto ci hai messo una copertina uno dei menhir dell'isola di Pasqua sì c'è qualche collegamento che vuoi raccontarci su questo? cioè come mai questa scelta hai raccontato anche di queste cose dell'isola di Pasqua allora io nel libro non parlo direttamente di il libro di Pasqua però mi è piaciuta questa immagine perché indica che noi non ne sappiamo mai abbastanza cioè fino a poco tempo fa noi pensavamo che i menhir la maggioranza dei menhir fossero soltanto delle grandissime teste oppure almeno quelli grandi sappiamo che le statue più piccole erano un corpo intero però pensavamo fino a pochi anni fa che le grandissime teste in realtà erano solo teste perché in base alle proporzioni se avesse avuto un corpo sarebbe stato gigantesco questa foto rilavorata al computer era proprio che ci sbagliavamo sotto quelle teste c'è un corpo un corpo che è lungo quasi 20 metri in tutto ma non su tutte mi sembra di aver capito che non su tutte sì solo su alcune quindi come abbiano fatto in un'usola così piccola a poter cavare una struttura così grande poi rinterrarla senza spezzarla perché uno può provare a prendere una lastra e a ficcare nel terreno una lastra ad altri 20 metri si spezza subito quindi come hanno fatto loro a creare questa grande statua senza romperla e incassarla nel terreno e lascia perplessi perché ci sono quindi menhir e menhir quelle piccoli va bene sono state pesanti però sono fattibili ma un mostro del genere di 20 metri e lì è diverso ecco quindi questa immagine vuole suscitare l'idea che anche se pensavamo che sappiamo tutto in realtà c'è molto che non sappiamo ho capito faccio sempre qualche altra domanda dei nostri amici che ci stanno scrivendo sempre Madi d'Impero noi la salutiamo usando i fononi questo insomma ripercorre un po' quello che dice sempre Corrado Malanga non so cosa sono i fononi quindi mi dispiace non posso aiutarvi ok va bene non entriamo nell'argomento sì l'amico di C Massimo 77 dice nel Sara ci sono delle gallerie si troveranno delle gallerie dei tunnel allora sì più che Sara parliamo di Giza Giza ha questa chiamata una vera metropolitana sotterranea naturale cioè sotto Giza c'è una rete di cunicoli enorme naturali ora perché proprio sotto Giza si trova questa grandissima rete di gallerie c'è una ipotesi molto interessante è che la desertificazione del Sara ha creato un imparente bisogno d'acqua ora non essendoci acqua nel deserto bisognava importarla acqua dolce quindi è probabile che queste gallerie che si trovano sotto Giza almeno hanno tentato di usarle come un antichissimo acquodotto e quindi la piramide di Cheope o la grande piramide potrebbe avere a che fare non tanto come non tanto come utilizzatrice di acqua ma piuttosto un tentativo ora bisogna dire se riuscito o meno di spingere l'acqua perché questa galleria è stata sotto la piramide spingerla in modo tale da poter far affluire l'acqua presente in questi tunnel alla gente e quindi a sé di setarsi ho capito noi ci stiamo avviando alle conclusioni anzi io ti ringrazio perché abbiamo fatto una bella rapida carrellata di tutto quello che è raccontato nel tuo libro ecco io volevo solo focalizzare così le persone che stanno a casa lo sanno e da diversi giorni uno dei best seller in storia antica su Amazon perché sta sta vendendo bene immagino giusto Carlo? anzi io ringrazio tutti gli amici che stanno comprando spero sembra che piaccia è veramente sta andando molto bene sono anch'io rimasto sorpreso perché sotto l'altro concorrente era Alberto Angela quindi famosissimo eppure ce la siamo giocata parecchio primo e secondo posto quindi è stato per me anche un motivo di gratificazione va bene va bene senti hai progetti per prossimamente così casomai poi sarà l'occasione per risentirci? sì infatti il libro finisce dicendo che c'è un altro volume perché io arrivo a quel punto faccio delle domande che adesso non vi spoilerò qui domande molto profonde e mi propongo di rispondere in un secondo volume che in pratica spiega il perché il primo spiega quello che è accaduto e poi nel secondo spiegherò perché è accaduto bene dai allora sarà l'occasione sicuramente per incontrarci una seconda volta quando sarà pronto il libro quindi noi restiamo aggiornati su questo e io ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito fino adesso proprio perché la voglia di sentire le novità sul tema di ricerca archeologica è sempre forte io ringrazio le persone proprio perché con il vostro contributo anzi invito tutti a mettere il mi piace alla pagina proprio per restare aggiornati e di iscriversi al nostro canale abbiamo anche un canale whatsapp dove possiamo recepire tutti i vostri suggerimenti e tutte le vostre domande che non siamo riusciti per tempo chiaramente a pubblicarle noi io ti ringrazio carlos veramente noi ci vediamo domenica dove parleremo di un caso particolare su Cristoforo Colombo della riscoperta dell'America quindi seguiteci e ci teniamo aggiornati per la prossima volta buonasera a tutti ciao arrivederci ciao per la prossima Grazie a tutti.